Un decreto legislativo che andrà in discussione nella prossima riunione del Consiglio dei Ministri potrebbe cancellare la destinazione di 20 milioni di euro di incentivi destinati alle aziende di call center. Il rischio riguarda in particolare quelle aziende definite virtuose a cui è destinato l'incentivo, cioè quelle aziende che nel 2007 hanno stabilizzato tutti i dipendenti. Il governo con il decreto in questione potrebbe dirottare la somma al Fondo per la Cassa Integrazione Straordinaria. Tra i call center che corrono questo rischio c'è Teleperformance che a Taranto ha la più grossa sede italiana con 2000 dipendenti. Per l'azienda e per la sede tarantina in particolare sarebbe un duro colpo anche in considerazione del fatto che la distribuzione dell'incentivo spalmato in tre anni è proporzionale alla grandezza delle stesse sedi. Assocontact, associazione di categoria di Assindustria, ha inviato una lettera al sottosegretario Teresa Belanova chiedendo di intervenire nelle sedi opportune per evitare che ciò accada. Sono somme che le aziende hanno già messo in conto, sostiene Assocontact, e che servono per la formazione professionale dei dipendenti, una delle voci più costose di bilancio.